Ben ritrovati gentili amici del canale Equistudio, a voi stadio, iscrivetevi come sempre, grazie per l'affetto con il quale ci seguite sempre, un saluto da Gianluca Rossi, vi parlerò naturalmente di Inter e vi parlerò di tutto quello che si muove a parole attorno all'Inter. E devo dire che sono abbastanza contrariato nel vedere che ancora una volta, ancora una volta, c'è una parte di nostra tifoseria che va dietro qualsiasi notizia, allora andiamo per ordine, è tornata in auge, segnalato da un sito economico, almeno stavolta la fonte tutto sommato aveva qualche più senso, aveva un po' di senso in più rispetto ai tanti che ne parlavano a Vanvera e la fonte economica è l'International Business Times, che è voglio dire un sito economico statunitense, cerca l'acquisizione imminente del solito pif dell'Inter, documenti già in viaggio verso Milano, poi nessuno spiega perché non è stata fatta una due diligence, niente, ormai si va avanti pervicacemente, hanno bucato la data del 19 novembre e adesso sembra che il primo gennaio, primo di gennaio l'Inter debba per forza essere di pif, ovviamente questa notizia apparsa nelle ultime ore, ripeto su un quotidiano economico americano ha scatenato come al solito i folli, siamo il club più forte del mondo, il club più ricco del mondo, che poi la cosa che io non capisco, siccome c'è già il Newcastle, che è di pif, perché non è il Newcastle allora il club più ricco del mondo, il Newcastle che tra l'altro è fanalino di coda in Premier, rischia di andare giù, ovviamente pif non ci ha ancora messo le mani, per carità, e resterà anche ultimo visto che non potrà neanche giocare la parola con l'Everton perché ha 14 positivi e quindi resterà sicuramente il fanalino di coda. Io non riesco di nuovo a capire quando soltanto circa 48 ore fa, comunque è vero che non riguardava l'Inter e sapete che io non amo particolarmente la proprietà cinese che si fa viva una volta ogni tanto e soprattutto non accenna quasi mai all'Inter, però non possiamo ignorare che 48 ore fa Zhang Jindong si era presentato ai dipendenti, ai 70 mila dipendenti del gruppo di Sunim.com, è vero che poi l'Inter fa parte di un altro ramo d'azienda, per dire che il debito è sotto controllo, stiamo ripartendo, è il 31esimo anniversario, questo 26 dicembre sacro in cui siamo partiti con un piccolo negozietto e adesso, insomma, finalmente dopo i tempi durissimi, non può piovere per sempre, tipo il film Il Corvo con Brannon Lee, siamo pronti a ripartire, insomma questo era stato detto. Niente, tutta risposta, anche se è vero che non c'entrava niente l'Inter nella lettera di Zhang Jindong, adesso da parte americana è pif, è di nuovo pif sull'Inter. Ovviamente notizia smentita da più parti, ma ormai, voglio dire, Suning continua a dire a tutti, al mondo, che cerca soltanto soci di minoranza o finanziatori, ma niente, c'è qualcuno che in maniera, devo dire, pervicace e senza nessuna fonte, continua a menarla col fatto che l'Inter sia già stata venduta agli arabi. Ovviamente non è così, perché finché non, che interesse ci sarebbe, ma scusate, ve lo dico per l'ennesima volta, ogni volta che c'è una sosta lo devo ridire, ma che interesse ci sarebbe non rendere pubblica questa notizia da parte della famiglia Zhang. Se ne andrebbero via con un miliardo, che problema c'è? Ovviamente poi International Business Times, che è una testata autorevole, oddio, fino al 2017 c'era anche una versione italiana, che poi è stata cancellata per scarsità di contatti, quindi non è che adesso stiamo parlando proprio del Financial Times, però vabbè. Però perlomeno, insomma, quando una notizia arriva dall'America, piuttosto che dai social, uno comunque la verifica. Bene, verificandola all'Inter, fanno sapere di essere stanchi di smentire, ormai non vanno neanche più dietro queste voci. Però c'è sempre il furbacchione che ti dice, ma no, non smentiscono perché è vero. Quindi se stai zitto è vero, se smentisci è vero lo stesso. In realtà non è vero. Poche ore dopo Ben Jacobs di CBS Sport ha smentito per l'ennesima volta che Piff stia per prendere l'Inter. Ed è uscita anche una pista americana. La pista che porta a Daniel Strauss con una S, nome che può ricordare quello del famoso compositore, però quello è con due S. E devo dire che questa è perlomeno una pista tutto sommato più credibile perché Daniel Strauss ha avuto delle esperienze in NBA dal 2012 al 2018, è un imprenditore new yorkese, 65enne, che ha avuto questa esperienza con i Memphis Grizzlies, poi ha tentato di prendere in Minnesota Timberwolves. È vero che comunque ha dell'interesse per lo sport. E perché io vedo più probabile se non altro questa pista? Perché comunque mi sembra di poter dire che perlomeno Strauss è abbastanza contiguo, vicino a un mondo come quello di Octree Capital, il fondo che sta affiancando e che ha emesso il bond con cui Suning sopravvive. Però insomma a parole vedete, tutti vogliono l'Inter, i cinesi la vogliono tenere, gli arabi la vogliono comprare, a parole. Gli americani adesso arrivano anche loro, ma gli americani c'erano già stati un po' con BC Partners, però chi vi parla, scusate, da cronista, ha bisogno di fatti. E un fatto, e un fatto incontestabile è che è chiaro che Suning prima o poi dovrà vendere, ma che sicuramente non è questo il miglior momento per vendere. Un po' per lo stadio, un po' per la posizione classifica dell'Inter, che rischia, se Dio vuole essere avanti così, di centrare un altro prestigioso all'oro e quindi in questo momento, francamente, non ci sono segnali di un passaggio di consegne della maggioranza della proprietà da Suning né agli arabi, cioè né agli americani né tanto meno agli arabi. Quindi si va davanti pure per efficacemente a concentrarsi sugli scenari futuri 2022-2023. Io l'unica cosa che vi posso ribadire è che Suning non sa più come dirlo, l'ha detto in inglese, l'ha detto in italiano, l'ha detto in cinese. Cerca solo finanziatori, soci di minoranza e non mi pare proprio che Piffa possa essere un socio di minoranza. Quindi, se proprio una pista sarà percorribile, forse sarà quella americana, forse. Però io, scusate, tutti vogliono a parole l'Inter, io invece sono un uomo che guarda i fatti. E mi dispiace che ci sia una parte, non tutta, della tifoseria che stia distogliendo troppo l'attenzione in questo momento da quello che è il nostro scenario immediato, che è il 6 gennaio Bologna-Inter, per cercare, se di uguale, magari non solo di consolidare il primato in classifica, ma hai visto mai, con Milan-Roma e Juve-Napoli, magari di allungare ancora un pochino, e poi il 12 gennaio la Supercoppa con la Juventus. Perché devo dire che dopo aver preso in Albodoro le redini del calcio italiano, vincendo lo Scudetto, cioè l'Inter è riuscita a succedere alla Juventus nel campionato italiano, mi piacerebbe anche succedere alla Juventus nella Supercoppa italiana, battendola. Ecco, queste dovrebbero essere le cose sulle quali un vero interista dovrebbe essere concentrato. Però capisco, c'è gente che ha sempre bisogno di sognare un futuro migliore, poi chissà se sarà migliore perché vedere il Newcastle come sta andando con Piffa che sta andando giù di botto non mi pare, insomma che questo sia il futuro che desideriamo. Certamente vogliamo una proprietà più vicina, sono io il primo a dirlo, più occidentale nei modi, nelle espressioni, questo è sicuro. Però da qui, a costruire scenari incredibili come Scamacca a giugno, secondo voi in questo momento il Sassuolo sta pensando veramente di privarsi di Scamacca e l'Inter con tutti i problemi che ha, ancora di rinnovi, eccetera, sta pensando veramente di dare 40 milioni al Sassuolo per Scamacca. Pensatela come volete, ma io a costo di svegliarvi dal mondo di Fantasilandia sono qui soltanto a dirvi che secondo me bisogna tenere la testa concentrata sulle cose più urgenti e più vicine, la ripresa del campionato del 6 gennaio e naturalmente la Supercoppa italiana. Buon anno a tutti e che sia un anno nerazzurro. Un saluto da Gianluca Rossi, iscrivetevi al canale YouTube QSVS. Ciao a tutti.